Beh, credo sia sotto gli occhi di tutti che siamo di fronte a milioni di disoccupati, che siamo di fronte ad una crisi le cui dimensioni nessuno di noi ha mai vissuto prima ed è evidente che non siamo di fronte a un'inversione di tendenza di fondo. Ci sono certe cose che vanno meglio, anche perché il petrolio non è mai costato così poco, perché l'euro si è svalutato, perché naturalmente imprese che se gli dai dei soldi fanno assunzioni qualcuno lo fanno, ma generalmente le fanno laddove dei posti di lavoro c'erano già e non siamo in presenza di un'inversione vera, di tendenza che è quella di creare milioni di posti di lavoro e di fare ripartire seriamente l'economia attraverso la ripresa degli investimenti pubblici e privati. Su questo a me pare che le politiche del governo vanno nella direzione sbagliata e credo vadano combattute per cambiarle.